L'unico momento in cui non... Sei solo una spacciatrice! Ecco cosa sei! Sai chi mi ricordi? Ah, sì. Pagan. Sono come Pagan perché voglio un futuro per il Kirat! Solo perché cerco di uscire da questo terzo mondo di merda! Parlo di storia, di cultura, di tradizioni. Tradizioni? Di che tipo? Tipo sposare le bambine, eh? È questo quello che vuoi per Badra? Oh, fa pure! Fallo, così Ajai vede che razza di uomo sei! Vedi di piantarla. Ora tocca a Nur. Su quello siamo d'accordo. Non aveva scelta. Pagan ha obbligato Nur a fare quelle cose, lui aveva la sua famiglia. E lei quante famiglie ha ucciso per salvare la sua? Non importa perché l'ha fatto. Deve pagare. Come tutti gli altri. Deciderò io cosa succede a Nur. C'è un po' di più. Grazie a tutti. Bello vedere! Non è giusto! Mi hanno bloccato le porte. Bastardi! Eh, sì. Di lì non si passa. Ok, passo al piano B. Allora! Yeah! Allora! ersi! Allora! 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 Au Üff! Allora! Oh! Au! Allora! buona autora In centinaia d'anni non ci sono mai stati combattenti più veloci e semutili. Ho sentito le vostre ruote e mi perdono la mia quantia personale. Grazie a me Lina, io sono la morte, io sono la potenza. Idiota, hai visto cosa hai fatto? Vado a entrare altri guerrieri. Vado a entrare. Vado a entrare. Basta, volevo un bello spettacolo, non lo scontrolla mai. Ti hai sentito o no? Basta! Vado a entrare. 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 Vieni, ragazzo! Di nuovo a mezzo di lui! Ti guardano! Ha detto, ti porto il rotto! Granata! Ma non stupi, non stupi, non stupi! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Non arratriamo! Vieni, vieni, vieni! Fuoco a volontà! C'è una tomba che ti... Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Papolo del Kirat! Vi ho dato vincitori da osannare! Vieni, 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 vieni! È vero! Mi sono rimandato, grazie a maniato! Ma è morto! È morto! È morto! No, è morto! No! Non può essere morto! Non può essere morto! Com'è successo? Ditecelo! Come si può essere morto! Come si può essere morto! Lo ricordo lo ricordo, com'è lì, vieni, vieni, vieni. Ajan, Namaste. Namaste. Naman! È una delle mie preferite. Era una dottoressa, un'anima caritatevole. Venne nel Chirat per una missione umanitaria agli inizi del mio regno. Ebbe la faccia tosta di scrivere un rapporto sulle violazioni dei diritti umani perpetrate dal mio regime. Allora l'ho contattata e l'ho invitata a tornare per vedere tutte le migliorie che avevamo apportato su suo consiglio. Ho esteso l'invito a tutta la sua famiglia. Quindi è venuta con marito e figli e li ho invitati a palazzo. Ho persino organizzato una riunione con tanto di PowerPoint. 12 modi per tutelare i diritti umani nel Chirat. Peccato che ogni slide parlasse di come le avrei rovinato la vita. Paul De Blair ha tenuto in ostaggio la sua famiglia e io ho obbligato lo spirito umanitario della dottoressa Najjar a guidare i lati più terribili del mio impero. Detto fra noi credo che ormai si diverta pure lei. Siete sintonizzati sul radio Chirat Libero e sono il vostro Rabi Reirana. Un amico mi ha detto che l'armata reale... Si è messa ad attaccare i campi nomadi in giro per il Chirat. Bella mossa di merda ragazzi. Ve la prendete con i più deboli. Siete veramente delle bestie. Perché quei poveretti hanno già una vita difficile. Cioè, pensate ai nomadi. Dormono sempre in una tenda, sono sempre in movimento. Che vita è? Facile che questa gente caghi nelle scatole o qualcosa di simile. E dove si fanno la goccia? Riempiranno un secchio d'acqua e se lo tireranno in testa come degli animali. Che poi mi conoscete? Io sono una personcina raffinata. Cago solo nei water. Sono un fan dei water e anche dei bidet. Il mio buco del culo è così pulito che ci potreste mangiare su.